ciao bambini eccoci di nuovo qua bentornati nella nostra classe virtuale dopo queste vacanze di pasqua allora come sono andate lo so un po strano le vacanze chiusi in casa proprio non ci piacciono però già che sono vacanze già è qualcosa che un po ci piace va bene torniamo a noi allora abbiamo detto che a pasqua festeggiamo la resurrezione di gesù eh sì ma secondo voi i cristiani festeggiano la resurrezione soltanto una volta all'anno no la festeggiano tutte le settimane e sapete anche in quale giorno questa è facile la domenica esatto e altra domanda non è difficilissima neanche questa sapete dove i cristiani festeggiano la resurrezione nel giorno di domenica è facile anche questa in chiesa non so se avete avuto modo di vedere come è fatta una chiesa non mi riferisco all'esterno ma all'interno vediamola un momento insieme guardiamo questo disegno eccolo qua allora vediamo eccoci qua allora la casa dei cristiani ho scritto qua i cristiani hanno una casa speciale dove si incontrano per pregare e ringraziare dio e questo luogo si chiama chiesa ecco appunto è come se fosse una seconda casa per i cristiani come è fatta una chiesa ci sono alcuni elementi che noi troviamo in tutte le chiese troviamo il crocifisso innanzitutto di solito lo troviamo alla parete ma potremmo trovarlo anche non lo so appeso al soffitto ad esempio oppure lo potremmo trovare non lo so appoggiato su una base a terra però troviamo sempre un crocifisso perché troviamo il crocifisso vi ricordate l'abbiamo detto poche poche lezioni fa la croce perché per noi è uno dei simboli abbiamo visto che gesù è stato crocifisso nel venerdì santo altro elemento che troviamo sempre è il tabernacolo nel tabernacolo c'è direttamente gesù c'è gesù nell'eucarestia cioè nella comunione è dove viene conserva dove vengono conservate le ostie le ostie per la comunione quindi in in quelle ostie i cristiani appunto pregano perché c'è realmente gesù e poi c'è l'altare l'altare è dove appunto le ostie che sono acqua e farina vengono consacrate e diventano il vero corpo di gesù esattamente come nell'ultima cena che abbiamo visto poche volte fa e poi ci sono i banchi perché le persone siccome appunto la messa dura un po le persone possono sedersi e stare più comode oppure anche fuori dalla messa possono stare sedute per pregare un po più comodamente poi c'è il campanile il campanile ci ricorda o meglio le campane ci ricordano che è festa questo suono ci ricorda sempre ci dà sempre una grande gioia no ci ricordano che è festa quando suonano poi ci sono altri elementi che abbiamo già visto tipo il cero il cero pasquale che viene acceso la notte di pasqua e rimane per un anno intero sempre lo stesso vi ricordate l'abbiamo visto nella scorsa lezione poi ci sono altre due cose che si assomigliano molto sono il fonte battesimale che sarebbe praticamente dove vengono fatti i battesimi è un un fonte dove c'è l'acqua appunto per per battezzare solitamente bambini ma ci si può battezzare anche da adulti e poi c'è l'acqua santiera che è molto simile al fonte battesimale si trova all'ingresso della chiesa proprio perché un cristiano quando entra può subito ricordarsi del del battesimo che ha ricevuto ecco questa casa è un po particolare ma questi elementi li troverete sempre in ogni chiesa allora adesso vi propongo due attività una è un piccolo giochino interattivo vi metto descrizione qui su nuvola il link per fare questo gioco dovrete ricomporre le parti della chiesa cioè mettere questi elementi che ho appena descritto nel posto giusto nel posto giusto il disegno chiaramente non sarà lo stesso di questo che state vedendo adesso ma leggermente diverso dovrete collocare i giusti elementi nel posto giusto poi quando l'avete fatto l'esercizio mi dirà in diretta se avete fatto bene però vi chiedo di rimandarmi se lo fate dal computer mi potete mandare una fotografia fatta con il cellulare oppure se lo fate con il cellulare potete rimandarmi direttamente uno screen vi chiedo di rimandarmelo sul registro elettronico secondo esercizio è una scheda che vi metto semplice semplice giuro è semplice semplice ve la metto sempre qui in allegato e potete o stamparla e farla a penna in quel modo mi rimandate una foto oppure se non volete stamparla potete anche modificarla tanto bisogna solo fare una linea potete farlo direttamente dal cellulare lo modificate e mi rimandate la foto modificata ok allora giuro che gli esercizi sono semplici semplici allora un caro saluto e ci vediamo la settimana prossima ciao bambini